Ciao a tutti, vi volevo rappresentare un modo per poter riuscire a recuperare il vostro telefono smarrito o a ritrovare il proprietario di un telefono da voi trovato. Ormai ognuno di noi nel nostro telefono ha di tutto, video, foto, documenti e dati personali che spesso molti nel caso di smarrimento non riescono a recuperare, quindi è un oggetto molto importante. Una cosa molto importante da fare è quello di avere un blocco schermo del telefono che possa essere il pin, il segno, l'impronta o riconoscimento facciale. All'interno della vostra cover vi consiglio di inserire un bigliettino, un adesivo con un numero di telefono, di un contatto di una persona a noi alla quale la persona che ha ritrovato il vostro telefono può contattare e poi può consegnare il telefono o anche inserire il vostro nome e cognome e indirizzo del luogo di lavoro, non quello di casa per i motivi che dopo vi spiegherò. Altra modalità più moderna ed efficiente che offre più informazioni è praticamente quella che vi sto per mostrare. Prendo un telefono, trovo a terra e trovo un telefono che ha la possibilità di effettuare solo le chiamate d'emergenza. Nel caso il mio telefono dato che l'ho impostato come vorrei che lo impostaste anche voi che ha due funzionalità molto importanti. Uno come vedete qui in alto ci sono due contatti che ho inserito io come chiamate d'emergenza che sono i miei figli. Pertanto si possono cliccare sopra e si può effettuare la chiamata dove i nostri figli riceveranno la chiamata da parte della persona che ha ritrovato il telefono e si potranno mettere l'accordo per la riconsegna. In basso troviamo un cuoricino. Praticamente sono le informazioni sanitarie. Cliccando sopra avremo il nostro nome e cognome, gruppo sanguigno, possiamo essere l'indirizzo di lavoro ma anche quello di casa che lo sconsiglio. Se vogliamo donare gli organi, se abbiamo delle malattie, diabete, siamo cardiopatici, se assumiamo delle medicine. Perciò queste possono essere informazioni molto utili nel caso in cui stiamo male noi o troviamo una persona in condizioni salute non buone. Sono informazioni che possiamo anche passare ai medici che verranno a soccorrere la persona. Come fare a impostare queste informazioni? Allora sblocchiamo il telefono, andiamo sulla rubrica, andiamo sul nostro, la nostra persona che praticamente lo troviamo in alto, io mi sono definito come Alessandro Manzoni. Cliccandoci sopra praticamente abbiamo le informazioni andando in basso, scusate, ok, facciamo scorrere, possiamo inserire le nostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Informazioni mediche e possiamo modificarle. Clicchiamo sulla mostra su schermata di blocco sulla destra o in posizione on affinché possiamo poi vederle. La stessa cosa i contatti di emergenza, figlio, figlia, padre, madre e possiamo aggiungere. Perché vi dicevo di non inserire il vostro indirizzo di casa? Perché se avete perso anche le chiavi di casa assieme al telefono potreste trovarvi praticamente delle brutte sorprese, perciò non conviene. Un consiglio che vi do anche nel momento in cui dovreste fare una denuncia di smarrimento è quella di fornire i dati dell'email e del telefono affinché possono essere inseriti nelle banche dati delle forze dell'ordine e così do un consiglio anche alle forze dell'ordine, perché non tutti gli operatori ne sono a conoscenza, si può effettuare una ricerca testuale, perciò se si ritrova un telefono o abbiamo sospetti che una persona abbia un telefono di dubbia provenienza si può effettuare una ricerca testuale inserendo il numero di e-mail. Pertanto si può risalire al titolare, al proprietario del telefono che ha asporto denuncia. Vi ringrazio per l'attenzione, sperando che vi sia stato utile e gradita questa informazione, vi saluto e vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Silver Sander ed attivando le notifiche cliccando sulla campanella. A presto!